Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Arcade Parla, siamo qui finalmente con l'arrivo della Season 5 Reloaded e tutte quante le patch notes e, oh mio Dio, sono infinite. Le stavo aspettando praticamente fino all'ultimo e sono finalmente uscite ieri sera, quindi questa sarà tutta quanta l'analisi del blog e tutti i cambiamenti che ho anche ripreso da Reddit, perché come al solito molte cose non sono segnate in maniera diretta, ma ci sono molti cambiamenti al gameplay. Ovviamente questa era la roadmap con i contenuti aggiunti e per zoomerirà praticamente tutto quanto fin da subito, a parte la modalità sopravvivenza di epidemia, che vi ricordo sarà un evento a tempo limitato. Apriamo quindi il blog di Trayer, che vediamo un pochino tutte quante le patch notes, perché sono veramente tante e sono secondo me più che altro questo aggiornamento, questa Season Reloaded, oltre che i contenuti che aggiungono, che comunque ci sono anche se pochi, sembra essere una specie di aggiornamento per sistemare praticamente tutti quanti i problemi e ottimizzare al massimo il gameplay. Inoltre ci confermano che Armada e l'ultimissima regione di epidemia non ne arriveranno più altre, per cui tutti i leak molto vecchi per Crossroads, Weather Station o altre mappe vengono completamente annullati. Questa è l'ultima mappa di epidemia, l'ottava. Guardando quindi il drop di contenuti c'è tutta una parte globale per l'evento dei numeri che arriverà il 21, ci darà anche come ricompensa l'arma corpo a corpo, sai, tutti quanti i bundle che arrivano in Season, contenuti per il negozio prestigio e i contenuti per multigiocatore, zombie e ovviamente poi i ricollegamenti a Warzone, dato che presto partirà anche la Season 6, che vale per Cold War e anche per Warzone stesso. I contenuti di Zombie sono quindi il Rampage Inducer per le mappe Around, la regione Armada, l'evento Black Chest, novi intel e informazioni per epidemia, update per DevOps Arcade 3 che sono fantastici e tutti i contenuti per PlayStation ricollegati a Carneficina Onslaut. Poi in Season arriveranno anche altre piccole cose. Saltando come sempre la parte multigiocatore che a me non interessa, ma vi ricordo se invece volete leggerlo, vedere per bene tutto quanto o appunto vi interessa qualcosina in più, il blog è in descrizione. Arrivando quindi al Zombie con tutta quanta la preparazione per la Season 6, che sarà l'ultimo blocco gigantesco di contenuti, la prossima mappa Zombie Around è l'ultima per Cold War e ripeto che appunto la mappa Armada è l'ultima per Epidemia. Quindi i contenuti mancanti per diciamo concludere tutto quanto il support per Cold War stanno arrivando tutti quanti, poi si passerà a Vanguard. Come visto anche in precedenza il Rampage Inducer è un piccolo contenitore che possiamo attivare per le mappe Around di Machine, Farbe Z e Mawar der Toten per fare i primi 20 round praticamente in speedrun. Ho visto anche un video su Reddit e è molto interessante perché i zombie corrono a velocità massima fin da subito, quindi i primi 20 round possono essere praticamente speedrunnati e farti molto molto in fretta. Carina sicuramente come aggiunta. Passando a Epidemia la mappa Armada che arriva in rotazione, sicuramente qualcosa di molto diverso dal solito per quanto riguarda come è strutturata e come va giocata. E in aggiunta l'evento Black Chest che dà tantissime ricompense, tra cui quella assicurata è una specie di spirito che ci segue e ci permette di sopravvivere quando siamo praticamente one shot in fin di vita ci proteggerà per continuare ad andare avanti. Questa cosa molto utile per partite veramente lunghe per fare i round o semplicemente per stare un pochino più tranquilli. Inoltre in questo evento come alcune ricompense casuali arrivano alcune cose di carneficina di PlayStation, tra cui l'armor al 2 che è un'armatura tutta quanta viola e non blu e il calice di bronzo che ci potenzia l'arma a livello 1 se l'arma appunto non è potenziata. Sicuramente upgrade veramente mostruosi e comodissimi per questo evento. Ovviamente ci riconfermono che più avanti nella season non sappiamo ancora precisamente quando arriverà la modalità hardcore sopravvivenza-epidemia che si parte soltanto come una pistola senza HUD, senza minimappa, tutto quanto con difficoltà aggiuntive per sopravvivere senza rigenerazione istantanea ma si raccogliendo il cibo sparso in giro. Di questo ne sono estremamente curioso. Ovviamente dell'Obs Arcade 3, poi in seguito vedremo che le patch notes per questa modalità sono dannatamente infinite e ne sono estremamente contento. Come al solito immagino che tante persone non l'abbiano giocato o facciano fatica, vi rimando come sempre alla mia guida completa in cui spiego per bene tutto quanto e gioco in prima persona perché è sicuramente molto più facile rispetto al visuale dall'alto e permette di goderselo un pochino di più assomigliando allo zombie standard. È comunque una modalità molto impegnativa e che presenta spesso diversi problemi e li stanno ogni volta sistemando anche abbastanza in fretta, ne sono molto contento. Per i giocatori di PlayStation molte cose purtroppo arrivano in season e non fin da subito, però l'arrivo di Drive-In, anche la modalità tempo limitato, Diminishing Light, tante altre intel da poter raccogliere, nuovi power-up e altri oggetti, tutte cose molto divertenti e comunque si avvicina l'arrivo di Carnificina anche per altre piattaforme Xbox e PC. Ci ricordo ancora una volta che il 21 di settembre parte l'evento dei numeri con 18 sfide e 19 ricompense, tutte le solite sfide che ci sono in questi eventi stagionali e tutto quanto può essere sbloccato tranquillamente anche su zombie, su multiplayer o su Warzone a seconda di quello che vogliamo giocare senza alcuna limitazione. Come fanno molto spesso nuovi contenuti per il negozio prestigio, ricordo che appunto questa season c'era veramente poco di interessante da poter comprare, se aggiungono altri biglietti molto divertenti, altre cose del genere, ne acquisterò tantissime cose perché altrimenti 27 cavi prestigio è un pochino lungo spenderle. E proprio riguardo a questo, dal 10 di settembre al 13 di settembre, dopo XP e dopo XP per le armi. Ormai praticamente ogni due weekend c'è qualcosa del genere, che sia un doppi XP, doppi XP per le armi o battle pass, tutto quanto che può far comodo a chi è rimasto indietro o che deve finire qualcosina. A me manca soltanto, se ricordo bene, la Marshall da sbloccare e finire, tutto resta tranquillamente al massimo e questa season fa i livelli, non mi interessa troppo, arriverò probabilmente al 400, andrò un pochino oltre ma nessuna fretta e nessuna preoccupazione. E infine ovviamente tutte quante le patch notes molto molto precise, anche se alcune cose praticamente ripetono quello che già sappiamo e quello che abbiamo visto, che sia quello vale molti giocatore o appunto zombie, a parte le feature tra cui Rampage Inducer, risolte alcuni problemi tra armi, errori o anche alcune cose che non funzionavano benissimo, come il progetto che ogni tanto moltiplicava le armi e ce le rendeva inutilizzabili, che io fortunatamente non ho mai incontrato, ma l'ho visto talmente tante volte da altri giocatori, che era praticamente insopportabile anche per me che soltanto lo vedevo. Risolte sicuramente poi tanti problemi su Epidemia, oltre che l'aggiunta di contenuti che è la parte molto più importante. Tutto quanto molto più stabilizzato e come ho detto prima, le patch notes di Drops Arcade 3 sono infinite, non entro nel dettaglio perché io le ho lette tutte quante, ma alcune cose sono talmente specifiche che fa capire comunque l'attenzione del team per questa modalità, che può sembrare secondaria o comunque una cosa aggiuntiva, ma comunque presenta tanti problemi ogni tanto che vanno risolti e che vengono risolti. Quindi ragazzi, questo era tutto quanto il blog di Traer, anche tutte quante le patch notes per questa Season Reloaded, ancora una volta non troppi contenuti, molte cose sono di epidemia, per il grosso delle mappe a round aspettiamo la prossima Season e aspettiamo ovviamente Vanguard. Di recente hanno fatto tutto quanto il reveal del multigiocatore e i dettagli della beta, per quanto riguarda Zombie aspetteremo ancora molto molto tempo, ma sicuramente poi sarà la preoccupazione diciamo successiva, una volta finito tutto quanto Cold War. E sarà un periodo comunque molto pieno, perché i primi di ottobre parte la Season 6 e probabilmente la prossima Appa Zombie, e letteralmente un mese dopo esce Vanguard, che avrà sicuramente almeno una Appa Zombie, si spera due, ma non facciamoci aspettative incredibili, comunque un bel periodo per i contenuti e per la storia Zombie. Lo saperemo un pochino tutte quante le vostre opinioni, sicuramente giocherò per bene questi contenuti aggiuntivi, ci sarà poi un video per tutte quante le intel, le informazioni che aggiungeranno a Epidemia tra Armada o altre cose precedenti, e probabilmente una discussione su tutto quanto quello che questo intel contengono, per il direttore, per Samantha, è quello che forse vedremo alla fine di questa storia, quantomeno su Cold War, perché la storia continuerà. Il video quindi si conclude qui, spero come sempre che vi sia piaciuto e vi sia stato utile, tutte quante le informazioni, il blog e tutto il resto sono qui sotto in descrizione, trovate anche tutti quanti i link per i miei social, tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord, ci vediamo come sempre al prossimo video. Un abbraccio, ala!